Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Gli amici affezionati, spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. Quelle belle persone che ci fanno stare bene, ci riempiono il cuore di gioia, sono rare. Sono persone che stanno veramente accanto a noi, ci offrono tutto per farci stare bene, ci danno la fierezza della vita. Sono persone rare e introvabili e offrono gesti grandiosi per darci anima e cuore. Sono appunto gli amici affezionati, della quale vi leggerò adesso la poesia. Le persone belle sono poche, ti riempiono di gioia e delle bellezze rare fanno sfoggio di pura fierezza. Gli amici affezionati sono rari e introvabili, offrono gesti grandiosi e tanti esempi inimitabili. Gli amici affezionati sono l'anima solenne, sono dei fratelli vicini anche nel momento peggiore. Gli amici affezionati ti donano l'anima, sono dei cuori aperti alla sacra e santa vitalità. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci. Grazie. Grazie.